Nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, in occasione dell'apertura al pubblico della sezione archeologica del Museo Civico, dalle ore 8.30 fino alle 13.30, l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione ITERART, ha organizzato una caccia al tesoro riservata ai ragazzi tra i 9 e i 13 anni. Guidati da una mappa e dagli indizi che dovranno essere sapientemente interpretati, i ragazzi visiteranno le varie sale del Museo archeologico per giungere al tesoro finale. Un pomeriggio unico per imparare divertendosi. L'iniziativa si terrà al Museo Civico, ingresso via Sant'Anna 4, ex monastero di Santa Lucia, dalle ore 16.